Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro. 11 rate da 139 euro. E rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Possiamo trovare diverse tipologie di influenze in questa canzone. Un qualcosa mi fa pensare in certi tratti ai Daft Punk, però belli miscelati diciamo con un concept tecno più che altro. Questa è la strumentale che ovviamente viene filtrata dal fare sperimentale di Kanye West a cui siamo anche abbastanza abituati. Non è un rapper ordinario. La canzone, che è una bomba a mano, dura 5 minuti ma puoi andare anche oltre perché sono quelle canzoni che spaccano e basta. Ha comunque però un suo fare, un ambiguo modo di parlare ad esempio dei soldi qui. Kanye West fa una strofa in cui vabbè fa un po' di autocelebrazione che però è un'autocelebrazione molto buttata lì. Non nel senso che non è fatta bene, nel senso che non è che viene presa di primo impatto come se fa un pezzo autocelebrativo lo faccio. No, c'è qualcosa che non torna e poi inizia a parlare di questo suocero che ha corto di soldi, che si è indebitato, che scappa dagli esattori. Merda con cui ha a che fare. E poi chiude con questa frase, non importa quanto diventi ricco. Quindi, cioè, è questo il gioco che poi si chiude con mi sto preoccupando per il fatto che i miei negri si sposino sul serio. Questa traduzione ora è da vedere nella lingua originale. Però c'è una profondità, c'è una preoccupazione anche altruista e però tutta questa interlude, diciamo, vuole andare a parare qui, sulla frase di Travis Scott. Dal mio cuore di pietra, il mio amore è freddo, insensato, prima di andare ho una domanda. Puoi esserlo? E questo è un traccione. Questo è un traccione perché anche i momenti in cui non si parla, c'è una comunicazione espressiva forte che viene poi accompagnata da queste parole, un po' come faceva Franchino. Ovviamente in un'altra forma, però il concetto è quello. Ma soprattutto io voglio porre l'ultima attenzione sul fatto che è difficile fare una musica elettronica che comunichi determinate sensazioni. È più facile farlo, è uno strumento, un musicista live e deve suonare un tot di note e quindi comunque c'è una comunicazione che va ben oltre la parola. Ma ecco, l'elettronica non c'è il tocco e quindi di conseguenza è difficile. Ecco, questa strumentale comunque ci è riuscita a comunicare esattamente quello che hanno detto le parole, trattenendo quell'ambiguità di fondo che io ho percepito e che poi Travis Scott ci ha confermato in forma poetica. Una gran traccia.